Tornare al palazzo Chisi, quello che penso io è che bisogna che ci trattate un po' come adulti a questo punto, cioè noi dobbiamo capire delle cose, io quando leggo che c'è gente che cerca di fare le feste di straforo negli alberghi perché fa figo, divento pazza, però dall'altra parte c'è anche un po' di adulti, perché se io voglio vedere mio padre che vive solo a Natale forse mi organizzo nel modo giusto per farlo, ormai ho capito come si fa, e la mascherina, e lavarsi le mani, il distanziamento, scusatemi.